E abbiamo la nuova ministra qui in Italia, direttamente dalla Liguria, Chanel Monique! Buonasera a tutti, buonasera mamma mia, sono contentissimo, sono onorato di aver portato il fisico della casa, è stata una cosa pazzesca e fantastica. Grazie, 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 grazie a tutta questa mamma mia, alla Vandia, a tutte le concorrenti, complimenti, che è un livello altissimo, sono proprio onorato di essere la prima della Liguria da tanto tempo e non so se la Liguria ha portato il fisico della Liguria, no la Liguria non ha mai vinto, in Italia è della Liguria, sono contentissimo, grazie, grazie, grazie. E allora seguitela su Facebook, Chanel Monique, ciao!